La fiera di quest'anno si svolge con tutte delle ambientazioni sul nero, tranne il mio stank tutto sul bianco, è una fiera internazionale dove vengono più persone, più personaggi e quindi siamo all'apertura, speriamo sia una bella esperienza. Quest'anno abbiamo lavorato molto più sull'ambientazione creando proprio un ambiente ad hoc perché tante volte ci viene richiesto non soltanto il fiore ma ci viene richiesto anche un tema per l'evento che sia matrimonio, che sia festa, quindi abbiamo deciso di portare una parte di montagna e di neve in questa parte di Lugano.